Dopo il grande successo della mostra romana e l'attesa dovuta all'emergenza sanitaria, arriva a Napoli con un nuovo percorso espositivo, la grande mostra multimediale dedicata a Massimo Troisi. Si intitola Troisi Poeta Massimo e un percorso tra fotografie private, immagini d'archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti sulla carriera e l'animo umano di uno dei più amati artisti della nostra storia. È stata organizzata secondo me grazie a un miracolo di combinazione d'amore per Massimo di tutte le persone che ci lavorano e che ci hanno lavorato, quindi Cinecittà, la città, la regione, tutti insieme per Massimo per fare una cosa dove penso che in questo momento sia veramente importante il suo pensiero, questo suo modo sempre propositivo, sempre ironico e dove ci diceva spesso di provare perlomeno a non prenderci troppo sul serio. Promossa e organizzata da Istituto Luce Cinecittà con l'assessorato alla cultura e turismo del comune e 30 Miles Film, la mostra è curata da Nevio De Pascalis e Marco Dionisi con la supervisione di Stefano Veneruso e resterà a Castel dell'Ovo fino al 25 luglio. La mostra partiamo dal titolo e perché Troisi Poeta Massimo? Perché io lo dico spesso, la prima cosa che mi viene in mente quando vediamo, quando vedo un'immagine, uno sketch di Massimo Troisi è il sorriso, è questa fortissima verb comica, questo impatto comico che ha. Poi sostanzialmente Massimo Troisi è stato un profondo intellettuale, intellettuale al di là della cultura perché aveva un pensiero, un pensiero fisso, un pensiero perentorio che lui ha dimostrato in tutto quello che ha fatto. A 26 anni dalla scomparsa l'esposizione racconta le tappe salienti della carriera dell'artista, dall'infanzia a San Giorgio a Cremano, alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore. Suggestiva la sala dedicata alla poesia, con manoscritti originali di Troisi esposti per la prima volta a Napoli, lo spazio dedicato agli affetti di una vita e l'amore per il calcio e per il Napoli, ed il cinema, la sezione più ricca e complessa della mostra, con foto, video, installazioni luminose, locandine e cimeli di tutti i suoi film, compreso un intero spazio dedicato al postino. Troisi è senza tempo, è eterno, è nella storia del cinema, della cultura di Napoli. Troisi è Napoli come anima, corpo, cuore. Consentitemi di dire che questa mostra è di un impatto emotivo straordinario, sia per la sua potenza, innovazione, originalità, sensibilità, ma anche per il momento che stiamo vivendo. Quindi io credo che incredibilmente non ci poteva essere momento migliore per provare a rinascere attraverso Massimo. Quindi invito veramente tutto e tutti a venirlo a vedere, perché devo fare i complimenti agli organizzatori tutti, a chi ci ha investito, Stefano che sta qua vicino a me e tanti altri, perché veramente Napoli con Massimo ha un legame rarissimo e indissolubile. Questa mostra ha diverse generazioni, la mia, ma non solo, rinnova quelle emozioni che non sono mai svanite. L'importante è avere la consapevolezza che Troisi è inarrivabile, inimitabile, è il più grande di tutti e quindi tutti noi lo guardiamo con gli occhi dei bambini quando vedono le cose più belle del mondo. Io quando ho iniziato a fare questo lavoro ho capito ancora di più la grandezza di Massimo Troisi, la sua tecnica, la sua capacità. Quindi è un fenomeno inarrivabile e tutti dovrebbero riguardare gli sketch di Troisi e i suoi film per capire molto di più, non solo di Napoli, ma anche delle faccettature più belle dell'anima.